Il nuovo cavalcavia di via Masseria Curato a Pompei è stato aperto al traffico. Lungo circa 300 metri con piattaforma stradale di 8 metri e marciapiedi di larghezza netta a un metro e mezzo, il cavalcavia è stato realizzato da RFI e ha permesso di eliminare definitivamente il passaggio a livello di via Masseria Curato, innalzando così gli standard di regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale, oltre a migliorare la viabilità della zona in prossimità degli scavi di Pompei per un investimento economico complessivo di 13 milioni di euro. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Pompei Carmine Losapio ed i responsabili territoriali di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovia dello Stato italiane. Finalmente stamattina con una bella giornata di sole abbiamo la possibilità di inaugurare questa strada che è anche molto tempo, che ha seguito un iter lunghissimo, realmente senza fare colpi a nessuno, però meno male che l'abbiamo aperto, quindi si apre un'altra possibilità di non andare per il centro, per andare a Castellammare, Santa Maria la Carità e Graniano, quindi tutto ciò che abbiamo detto durante la presentazione del nostro programma all'inizio, quindi a meno di un anno se vogliamo dall'insediamento della mia amministrazione abbiamo realizzato tutte quante le opere pubbliche che noi avevamo detto e scritto nel nostro programma elettorale, tra le quali questa strada che riapre la possibilità e riapre e risveglia anche la possibilità che a Pompei si può bypassare anche per altre strade. Grazie